Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video del vostro palazzone. Oggi, signori miei, siamo qua, come state vedendo dalle mie manine, per aprire la nuova collezione di Mary o Mary, insomma come volete voi chiamarla, che sia italiano o che sia eventualmente inglese. Però io ragazzi vi sfido, vi dico subito che oggi andremo ad aprire la collezione in italiano, perché quella inglese la voglio tenere per la mia collezione, è messa meglio, ha un valore anche oggi più alto perché è completamente sold out, anche se l'italiano è una via di mezzo tra l'essere sold out o meno, e mi interessa molto di più averla in collezione. Ma, se questo video raggiunge 250 like, andiamo ad aprire anche quella inglese, mi raccomando, vi ricordo come sempre di passare in descrizione, moviemania, codice parts 7% di sconto, il gruppo telegram di compravendita di news pokemon di den, mi raccomando passateci, il link di hobbybox e il mio profilo Instagram. Ragazzoni, mi raccomando, venite a seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione. Dunque ragazzi, come vi ho detto poc'anzi, oggi andiamo ad aprire la collezione di Mary, in questo caso andiamo, scusate aspetta un attimo, sposto i miei evolution, quella in italiano, perché quella in inglese la terrò nella mia collezione, perché è molto più ricercata al momento, mi interessa di più tenere quella inglese piuttosto che quella italiana, e andiamo ad aprircela. Io ragazzi, considero questo prodotto, soprattutto in versione inglese, quindi se avete la possibilità tenetevi in collezione quello inglese, lo considero come il miglior prodotto dell'ultimo periodo, dell'ultimo anno che sia uscito. Perché ragazzi? Perché questo prodotto, vi mostro subito cosa contiene, ma lo sapete già, contiene Mary in versione Full Art, o Marni, o come la volete chiamare voi insomma, Insieme a tre carte Cosmo Olo, praticamente Stamped, con il logo appunto che ho scritto Mary insomma, sette pacchetti, che siano italiani o che siano appunto inglesi, una monetina fantastica e dei dadini. E' veramente una collezione super, super super, soprattutto ragazzi, ve lo riconsiglio, se la trovate in inglese, ad un prezzo buono, perché ormai dovrebbe essere salita intorno a un'ottantina di euro, prendetela immediatamente, perché solo Mary Full Art viaggia in inglese all'incirca tra i 45-50 euro, fate voi. Andiamo ad aprire ragazzi la collezione, vi ricordo signori che da questo mercoledì, ovvero l'11 fino al 14, mi troverete a Sulmona, quindi se volete venire a fare un saluto venite che ci sbustiamo un bel po' di robette. Qua togliamo la nostra, praticamente è una sorta di deck box e qui c'è il restante della collezione, andiamo a togliere il tutto, perfetto. Unica cosa ragazzi, a questo giro non vi potrò dare i codici perché voglio utilizzarli, quindi non verranno dati, vi darò i classici codici dei pacchetti, tranne quelli appunto della collezione perché me li terrò. Quindi all'interno di questa piccola o di questo piccolo brick abbiamo le sleeve che sono fantastiche con Mary e un morpeco laterale, abbiamo i dadini rosa, una moneta che è veramente veramente spettacolare ragazzi e a me solitamente le monete non piacciono e abbiamo ragazzi la nostra Mary qua in questo caso italiana in versione full art con le altre tre carte Cosmo Holo Stamped. Non la tolgo ragazzi perché io sono assolutamente amante del Sealed e quindi la terrò Sealed nella mia collezione, soprattutto quella inglese perché ne ho presa una inglese anche separata. Questo è il deck box, veramente veramente spettacolare ragazzi, veramente spettacolare, che andiamo ad aprire subito. Questo è il deck box con Mary e Morpeco praticamente presenti su tutto il deck box, veramente utile. E questi sono i nostri sette pacchetti, due fiamme oscure, due voltaggio sfolgorante e tre regno glaciale. Quindi ragazzi capite bene, una collezione interessantissima, Mary full art, tre carte Cosmo Holo, un deck box, una monetina, i dadini e sette pacchetti molto interessanti, tra l'altro i migliori ad oggi del set Scude Spada. Andiamo a spacchettare fiammette oscure, vi ricordo che all'interno del fiammette oscure, signori miei, si cela lo zardone. Non sarebbe male trovare qualcosa, devo dire la verità, è da un po' che non pullo qualcosa di decente e non mi dispiacerebbe proprio per niente. Quindi ragazzi, io ve lo ripeto, considero questa collezione come la migliore, veramente, non è che ci guadagno qualcosa a dirlo, eh, cioè per carità, ma la considero veramente come la collezione migliore dell'ultimo periodo, quindi assolutamente prendetela. Qua c'è qualcosina ragazzi, credo sia una V, Marip, la Reverse che è un Golurk e la carta sotto è un Butterfree V-Max, primo pull della Merni o Mari Collection, un Butterfree V-Max che mettiamo lì insieme alle Evolution. Io ho preso questa qua, appunto in versione italiana, al GameStop e all'ultima che aveva ragazzi è andata completamente a ruba, perché vi ripeto, è una collezione veramente, veramente ottimale da prendere, da avere in collezione sotto qualsiasi punto di vista e quella invece inglese l'ho pagata circa 50-55 euro, quindi già oggi ho fatto comunque un bel colpetto. Torchic, Rokhidi, Tediursa, Pampur, La Reverse che è un Tievul e sotto abbiamo un Milotic Olografic. Andiamo con Voltaggio Sfolgorante, poi i pacchetti al suo interno ragazzi, Fiammoscure comunque molto interessante. Abbiamo ovviamente lo Zardone all'interno del set. Voltaggio Sfolgorante, abbiamo i vari Pikachu V, il Pikachu V-Max, il Pikachu Hyper, abbiamo le Amazing, quindi sono pacchetti molto interessanti e Regno Glaciale è ovviamente l'ultimo che è uscito e sapete già tutte le varie alternative. Pipipek, Ninkada, Arrokuda, vediamo se riusciamo a trovare un Amazing, no, Metang Reverse e l'ultima carta un Manetrick. Secondo pacchettino di Voltaggio Sfolgorante, mi raccomando ragazzi supportate questo video che se arriviamo a 250 andiamo ad aprirci anche quello in versione inglesica. Energia Psico, Zebstrika, Zwello, Azzurra, Voltorb, Ninkada, Chaimeko, Riolu, dacci un Amazing, dai, dacci un Amazing, non ancora Ciutol e qua sotto c'è una Reverse che è Pinchurchin e sotto un Alchemy. Quindi, Voltaggio Sfolgorante non ci ha doppato niente, ma è l'ora di Regno Glaciale. Mamma mia se trovo il Moltres Alternative. Ho pullato solo un Alternative ragazzi, ho trovato solo Tornadus V Alternative, è l'unica carta che ho trovato in versione Alternative al momento. Codicino per voi, trichettino A4, noi buttiamo indietro, forse c'è un'altra V. Abbiamo un'energia Acqua, Sileo, mi sembra un po' strana questa carta. Rudy, Cristallo di Bruma, Kubfu, Shuppet, Scorbani, Diglett, Incai, la Reverse che è un Furfru e l'ultima carta è una V ed è un Kalierex Cavaliere Spettrale V. Quindi al momento la collezione ci ha pullato una V Max e una V. Sarebbe bello concludere con una Full Art ma la vedo abbastanza grigia. Andiamo ad aprire l'altro pacchettino di Regnetto Glaciale, ecco qua il codicino, trichettino A2, A4, sì messo bene, ok. Energia Metallo, Corneccheggiante, Tvokei, Poygon2, Quillfish, Blitzle, Kubfu, Shuppet, Scorbani, la Reverse che è uno Slowking di Galar e l'ultima carta che è un Tundurus Olografico. Andiamo quindi ad aprire l'ultimo pacchetto di Regno Glaciale che ci ha troppato solo un Kalierex Cavaliere Spettrale V. Il pacchetto si è completamente distrutto, sia Mike che allora porti fortuna, ma non credo proprio purtroppo. Buttiamo dietro, codicino per voi, 1, 2, 3, 4, noi buttiamo indietro e ci siamo. Energia Psico, Ledian, Sentiero Baccacima, Fluffy, Porygon, mi sa che non c'è niente. L'Ediba, Gastly, Rockraff, Incai, la Reverse che è uno Spill e l'ultima carta è un Zangoose. Quindi la collezione, signori miei, ci ha pullato una V e una V-Max. Considerate che poi ovviamente all'interno della collezione abbiamo la nostra adorata Mary in versione Full Art promo. Ragazzi, io vi ringrazio e vi invito ad arrivare a 250 like se volete che vado ad apparire anche quella inglese che è della mia collezione. Mi raccomando ragazzoni, supporto al massimo per favore per il palazzone. Passate dai link in descrizione, trovate anche il mio profilo Instagram quando venite a seguirmi. Un saluto nel vostro palazzo. Ciao ragazzoni!